E' difficilissima da ricordare, proprio in generale, vediamo se qualcuno sa da ricordare. Qualcuno sa, qualcuno la sa, non io ma qualcun altro la sa. Qualcuno? Si! Non importa di lui, se non vorrà, rimanerai. Se capiterà, tu gli dirai, voglio morire a canto, se non è qui, sognarò di volare via.